eccoci qua ragazze siamo in diretta per mostrarvi la promo del mese special christmas l'ultima per quest'anno poi riprenderà gennaio intanto vi faccio vedere un attimino in anteprima quello che andremo a vedere intanto che aspettiamo un attimo che si colleghino tutte aspetto che mi ok anche per insomma audio e video che si vede che si senta bene e poi iniziamo subito eccoci qua vado a ritroso ecco qua allora lo abbiamo già pubblicato in pausa pranzo comunque ci tenevo a farmi un attimo capire come funziona perché è un pochino più particolare degli scorsi mesi allora per lo speciale christmas abbiamo pensato di impostare il la promo come se fosse un kit quindi un set di prodotti che vanno a creare in questo caso l'alberino oppure la giacca oppure gli stampi eccetera allora iniziamo da questo che ce l'ho più vicino intanto non so se avete già visto sul sito trovate tutto caricato quindi su www.merceriahm.it questo qua merceriahm.it trovate già tutti i prodotti nella sezione promo oppure nella sezione kit e qua sotto trovate anche il whatsapp quindi per chi preferisce scrivere su whatsapp va benissimo anche lì vi risponderemo quanto prima ovviamente col sito è più veloce potete già metterlo nel carrello e via per chi è qui della zona ovviamente può ordinare le cose ugualmente quindi sia i kit che tutti i prodotti sfusi li trova già sul negozio oppure è preferibile ordinarlo quindi se volete i kit completi vi preghiamo di ordinarli perché le quantità sono limitate ok ciancio le bande allora iniziamo con lo special albero flores che è questo qua allora tante di voi ormai conosceranno la nostra fustella flores in esclusiva qua nella copertina trovate già l'alberino che è questo e con la stessa fustella riusciamo a realizzare tantissimi progetti vi invito ad andare sul nostro canale youtube alcuna matata merceri ancona dove potete vedere tutti i vari progetti con cui abbiamo realizzato con la flores e abbiamo pensato di creare un kit proprio per realizzare l'albero grande trovate il tutorial dell'alberino più piccolo già caricato su youtube ma questo grande non abbiamo ancora pubblicato quindi ci saranno delle spiegazioni scritte poi ovviamente ci sono tutti i nostri contatti se vi volete insomma andare se ci volete chiedere domande quant'altro e lo abbiamo impostato con quattro varianti due con il velluto e due con il pannolana allora quello del pannolana praticamente l'effetto è questo qua noi l'abbiamo usato bicolore voi lo farete tinta unita non succede niente la struttura dell'albero è questa qui grande quindi con i vari divisori e alzatine per arrivare insomma più in alto possibile e creare un alberone di circa 40 centimetri e questa è un'altra variante con la stessa struttura fatta con il pizzo e il pannolenci glitterato allora nella nel kit special albero flores è compreso o due fogli di velluto nel colore salvia o nel colore verde bosco o due o un pezzo grande 50 per un metro e mezzo di pannolana o verde salvia o verde muschio più la fustella flores più la struttura e ovviamente le spiegazioni per realizzare l'albero a 39 90 anziché 54 e 20 quindi tenete conto che già solo la fustella viene 28 euro e 90 è un buon prendere perché alla fine con 10 euro riuscite a fare tutto l'alberone allora e questo è il primo ciao piera benvenuta lo trovate come sotto i kit sul sito oppure ci scrivete ora vorrei il kit albero flores e mi dite quale scegliete tra il pannolana il velluto e in quale colore e questo è il primo di cinque kit poi andando avanti questo forse dalle foto non rende perché ci abbiamo studiato per per realizzarlo allora sono ben sei varianti di colore eccolo qua questo è lo special tessuti sono solo tessuti nastro botanica e in omaggio avete anche la tavoletta in legno che potete sia dipingere che decorare sia con gli stessi colori del del kit oppure a vostro piacimento la potete utilizzare per qualsiasi altro uso ciao ginetta benvenuta quindi adesso ve li mostro velocemente perché ognuno ha una dei materiali diversi diciamo la costante il pannolana e la tavoletta in legno allora questa è la variante ottaneo che ha il velluto la maglina glitterata il trastullami il pannolana due foglie glitterate argento il nastrino argentato e il legno e la tavoletta queste vengono tutte 15 90 anziché 19 90 quindi gran prezzone sia che vogliate fare un pensierino per un'amica creativa sia che volete fare scorta di materiali perché comunque lo abbiamo già impostato per insomma nella gradazione in modo che potete realizzare già progetti così come sono e si presenta anche carino se ci volete mettere un profumo con la nappa oppure lo potete regalare così com'è oppure potete regalare la creazione fatta con questi abbinamenti intanto ciao claudia ciao irene buonasera a voi andando avanti con il secondo una seconda variante c'è sempre la tavoletta in legno il pannolana tinta unita in questo in questo caso è vinaccia abbiamo il non vedo rosso la bagliante rosso il velluto color panna questo nastrino con i cuori sempre di mirta sempre un cotone di ottima qualità e un nastro di nuage quindi questo sempre di 15 90 anziché 19 90 la promo è valida fino al 20 di questo mese quindi viene anticipata perché poi se no ci sarebbe natale di mezzo non ci avrebbe più senso quindi da oggi dal 10 di dicembre fino al 20 di dicembre valida e poi tornerà al prezzo di 19 90 quindi la troverete sempre nel sito ciao anna benvenuta allora terza variante il rosa cipria che è tavoletta pannolana cipria trastullami rosa la bagliante rosa questo è cangiante per chi non lo conosce è un tessuto sfumato quindi va da rosa cipria all'illetta il velluto rosa cipria questo nastro majestic di rencali bellissimo e ancora il nuage passiamo dall'altro variante questa carta da zucchero quindi buonasera gabri quindi abbiamo la tavoletta in legno il pannolana carta da zucchero il vedo bianco la bagliante carta da zucchero il velluto carta da zucchero un altro pizzo di mirta sempre in tinta e questo dovrebbe essere se non mi sbaglio l'eucalipto con il bianco quindi nei kit trovate anche cose che prese singolarmente non trovate sono disponibili solo in questi kit special hanno quantità limitate quindi anche qui vi invito insomma ordinare il vostro prima che finisca mi dispiace poi se vi dico che che non c'è più insomma un peccato allora nella variante verde ci abbiamo tavoletta pannolana verde salvia questo è un tool e glitterato come quello che abbiamo utilizzato nella nel babo chic la maglina verde glitterata il velluto verdone due foglie di felce glitter verde e questo nastrino a scacchetti poi per ultimo allora ginetta e questi sono praticamente solo materiali poi sta a voi trasformarli perché qui abbiamo un tessuto leggero che può servire ad esempio per rivestire delle sfere o d'altre sagome la maglina che con cui potete anche fare i fiori il velluto stesso discorso lo potete sia fustellare che usare con gli stampi il pannolana che va benissimo fustellato o tagliato a mano e poi la botanica e la tavoletta quindi questo kit ha pensato per chi insomma vuole un attimo dare sfogo alla sua creatività e abbiamo già preparato degli degli abbinamenti noi per facilitarvi insomma ciao tiziana benvenuta poi andiamo avanti con l'ultimo con l'ultima variante quindi la costante è la tavoletta il pannolana tortora che appena tornato sul sito disponibile qui ci abbiamo il non vedo sfumato quindi nel colore nocciola dal panna al nocciola questo è il trastullami panna con cui si realizzano benissimi fiori il velluto glassy e questo pizzetto incassato quindi potete farci dei bellissimi fiocchi e anche il nuage color cremino e questa è la special tessuti a 15 ore 90 anziché 19 90 solo fino al 20 di dicembre poi se non ci sono domande passerei al prossimo qui abbiamo la special plexiglass perché tante di voi ovviamente usano il plexiglass quindi abbiamo fatto una promo per chi magari fa mercatini o comunque realizza cose abbastanza in serie abbiamo fatto un prezzone con delle cose assortite allora lina la misura del velluto del kit questo qui dei tessuti a 50 per 70 centimetri quindi riuscite a fare diversi fiori diverse cose nello special plexiglass è incluso due medaglioni da 11 centimetri un ovetto da 8 centimetri due sfere da 12 centimetri un cuore da 8 centimetri due luci da 10 led e due luci da 20 led eccole qua già incluse di batterie la taschina è molto piccola come quelle che usiamo noi solitamente nei nostri progetti e il tutto è in promo a 19 90 anziché 24 90 quindi anche qui lo trovate sul sito sotto promo la lo special plexiglass quindi tutte queste cose qua quattro luci due medaglioni due sfere un uovo e un cuoricino ecco qua poi special stampi penultimo e ultimo delle cose creative poi passiamo all'uncinetto quindi lo special stampi e include anche questo è bello carino perché l'abbiamo fatto già con il set di stampi e abbiamo voluto includere tutti i materiali già termomodellabili così per chi magari non ha mai fatto fiori con gli stampi e vuole un kit di partenza questo è già assortito in quattro varianti di colore che abbiamo pensato non siano insomma quelle più utilizzate e tutto il materiale per fare fiori ne fate diversi il prezzo è 27 90 anziché 34 90 ma andiamo a vedere cosa c'è all'interno allora ci abbiamo un set di stampi che cambia in base alla variante di colore nella variante verde è incluso il silvestre il velluto verde bosco il fommi da un millimetro verde il un pistillo argentato una maglina glitterosa sempre verde e 5 sfere di polistirolo queste serviranno per andare a fare fiori chiusi e questi serviranno per fare i fiori aperti oltre a questo diamo anche un mezzo metro di termo adesiva che servirà a doppiare i fiori che poi andremo a fare con gli stampi trovate diversi tutorial che abbiamo fatto sempre su youtube dedicato agli stampi quindi con queste cose qui quindi termo adesiva palline maglina pistilli velluto fommi e stampi riuscite a fare veramente tanti tanti progetti intanto ciao pina ciao a tutte quindi questa è la prima variante verde la seconda è l'ottanio con cui è incluso il set narciso che è uno dei due ultimi arrivati set narciso pistilli palline di polistirolo e la maglina glitterata ottanio il velluto sempre 50 per 70 ottanio un foglio di fommi e la termo adesiva gli stampi da soliti tiziana vengono 19 90 quindi avete tutti gli altri materiali a poco meno sui 7 euro e 8 euro forse e quindi tutta questa cosa a soli 8 euro e gli stampi per chi volesse per chi dice già i materiali ce li oli ho già presi voglio solo gli stampi li trovate sempre sul sito sulla sezione stampi quindi narciso con l'ottanio il rosa con le dalie anche questo è l'altro set appena arrivato con questa stagione quindi abbiamo sempre sfere di polistirolo pistilli maglina velluto e fommi con la termo adesiva e ultimo ma non ultimo quello panna con cutimui che anche questo è particolare perché soprattutto in primavera si usa tantissimo perché ha gli stampi fatti a petalo quindi per creare un fiore potete crearlo voi a vostra a vostro piacimento è sempre incluso le palline di polistirolo la maglina i pistilli in questo caso rossi perché col panna ci sta meglio velluto panna e fommi panna tutti questi a 27 euro e 90 l'uno eccoli qua quindi panna rosa ottanio e verdone poi per chi invece ama fare l'uncinetto abbiamo pensato anche qui anziché un filato da solo abbiamo realizzato un capo e vediamo anche qui le spiegazioni in omaggio quindi anche qui per realizzare questa giacca qui viene tutto quanto a 23 ore 90 anziché 29 fate conto che se questo era andata a prendere in un negozio fatto vi costa almeno 80 euro e non è fatto a mano e potete scegliere anche qui ci sono poche disponibilità di filati quindi anche qui vi invito a scriverci subito c'è la variante magenta che è questa qua la variante marrone questa qui la variante rosa la variante grigia e la variante ocra fate conto che questa è la variante rosa e ci è venuto fuori questa giacca qui oltre ai filati troverete in omaggio sia l'uncinetto per realizzarlo che tutte le spiegazioni per realizzarlo quindi questo è un capo taglia unica va sopra un lupetto e anche un pantalone stretto perché c'è la manica molto larga come va adesso è insomma l'ideale che per fare un regalo tenete conto che si lavora con un 6 quindi riesce anche parecchio e questo qui viene 23 90 anziché 29 90 questo lo trovate nel kit uncinetto e dove è incluso vabbè anche le borse di juta trovate anche questo qui con la giacca e si chiama special giacca uncinetto ok ragazze quindi se non ci sono domande io vi saluto adesso spero che abbiate un attimo l'idea più chiare perché magari dal sito non si riesce a capire precisamente cosa include ogni kit e spero che vi piacciano a me soprattutto questi mi sono piaciuti tanto perché mi sono un po sbizzarrita insomma con gli abbinamenti e niente per qualsiasi ulteriore informazione adesso sempre a disposizione potete contattarci anche su whatsapp al 349 465 622 9 eccolo qua 349 465 622 9 oppure andare direttamente sul sito soprattutto nel weekend che non riusciamo a rispondervi subito potete ordinare insomma dal sito ok grazie a tutte per l'attenzione e una buona serata a presto